Mondezzaio, luogo dove si ammassano o si gettano le immondizie. Per estensione, luogo molto sporco, così dice il vocabolario. Le immagini esemplificative poi ce le mettiamo noi. Eccole, guardate, pattumiere abbandonate per strada, ma anche, come ci mostra questo video, carte, cartine, pezzettini frantumati di sporcizia. È quello che resta dopo il passaggio di una carovana di nomadi. Ci documenta tutto una nostra telespettatrice che scrive, volevo segnalare la continua presenza di famiglie Rom in strada Padana, a Vicenza, in piena zona rossa. Attenzione, questa amica di Rete Veneta sta sottolineando, giustamente, che ci troviamo nell'area vietata alle carovane. Invece, come ci mostrano queste foto scattate pochi giorni fa, le disposizioni del sindaco sono state violate. Si vedono bambini messi nelle condizioni di fare i loro bisogni davanti a tutti e questo, al di là dell'aspetto igienico, del degrado che portano, non è giusto innanzitutto per loro. Ora, queste carovane sono partite, ma, secondo i cittadini che abitano nella zona, vanno e vengono. La nostra telespettatrice sottolinea che questa situazione c'è soprattutto la mattina e la sera e ci chiede di portare la sua segnalazione al sindaco. Noi ovviamente lo faremo, anche perché, come abbiamo mostrato, il degrado che resta nella zona, quando i camper se ne vanno, è evidente. Insomma, la questione merita di essere portata avanti, dunque continua.